Non ci dimentichiamo di riposare. È importantissimo. È importante per la pelle, è importante per la mente, è importantissimo per il corpo. Se vogliamo avere delle ottime performance in generale nella vita, abbiamo bisogno di dormire le giuste ore. Non sono io che lo dico, è la scienza, sono stati fatti una serie di studi. Personalmente ho bisogno di dormire 7 ore, 7 ore e mezza. Però ognuno di noi ha il suo bioritmo, quindi cercate di trovare il vostro e dormite le giuste ore per essere più interessanti, affascinanti, riposate, belle, fresche, con la mente fresca, immediata. Anche l'apprendimento è più semplice quando si dorme di più, ma non parliamo soltanto di apprendimento, parliamo proprio di pelle. Quando siamo riposate la nostra pelle è più distesa e quindi qualsiasi tipo di trucco ci verrà meglio. Ci avete mai fatto caso che, sì certo, con il trucco si può coprire l'occhiaia, la borsa sotto gli occhi eccetera eccetera, però ci avete mai fatto caso che quando facciamo un trucco, quando siamo riposate, viene meglio ma non soltanto a livello di colori, ma anche a livello di rughe. Perché, ragazze, parliamoci chiaro, quando abbiamo molte rughe, quando il viso è stanco, se ci mettiamo molto trucco sopra, non possiamo che peggiorare la situazione. Sicuramente, parlo ovviamente da profana, nel senso che io non sono una truccatrice professionista. Ho imparato a truccarmi perché mi serve per la professione che faccio. Magari la truccatrice professionista ha il genio di toglierti la stanchezza dal viso, però indipendentemente dal trucco, dall'aspetto eccetera eccetera, quando siamo riposate sicuramente ci viene tutto molto meglio. Quindi cerchiamo di riposare, troviamo il nostro bioritmo e riposiamo quello che è giusto per noi. Vedrete che sarà tutto più semplice, sarà più semplice allenarsi, dedicarsi quell'oretta al giorno a noi stesse, al burlesque e anche a tutto il resto. Anche alla nostra vita quotidiana normale, il lavoro. Alla fine siamo donne che corrono, donne, uomini, siamo tutti alla rincorsa di qualcosa. Quindi sì, può capitare quella notte che non si dorme abbastanza, due giorni di seguito, ma non di più. Il riposo è fondamentale per la pelle e per tutto il resto. E allora andate a dormire! Alla prossima pillola di burlesque! Alla prossima!